Deliziosi ravioli ripieni di porcini freschi in una salsa burrosa e aromatici. Prepara gli ingredienti. Farina tipo 00, uova, funghi porcini freschi, burro, parmigiano reggiano. Preparate ingredients, type 00 flour, eggs, fresh porcini mushrooms, butter, parmigiano reggiano. Mescola la farina e le uova fino a ottenere un impasto omogeneo. Lascia riposare avvolto nella pellicola per 30 minuti. Mix the flour and eggs to open a homogeneous dough. Let it rest wrapped in plastic wrap for 30 minutes. Soffriggi i funghi porcini con burro e aglio. Trita finemente e mescola con parmigiano reggiano grattugiato. Sotete porcini mushrooms with butter and garlic. Filli chop and mix with grated parmigiano reggiano. Dividi l'impasto in piccole porzioni e stendi sottili sfoglie. Disponi il ripieno sui dischi di pasta e chiudi con un altro strato sopra. Dividete dough into small portions and roll out in sheets. Place the filling on the pasta discs and close with another layer on top. Cuoci i ravioli in acqua salata bollente fino a quando sono al dente. Scollali e condisci con burro fuso e funghi. Spolvera con parmigiano reggiano grattugiato prima di servire. Cook the ravioli in boiling salted butter until al dente. Grun and season with melted butter and mushrooms. Sprinkle with grated parmigiano reggiano before serving. We're gonna take the red lip in the cup. Close enough and Yarin sotile �ren. о